Un caro saluto da Mario Giuliaci, il tempo previsto nei prossimi 10 giorni con tendenza fino a 15 giorni. Come dire, riusciremo a parlare del tempo fino a circa la metà di dicembre. Bene, l'inverno parte il primo dicembre e vi sembra mostrare veramente i muscoli. Sarà più inverno di quanto non abbiamo visto negli ultimi 6-7 giorni e farà più freddo. Ci saranno delle nevicate interessanti. Andiamo con ordine quattro perturbazioni. Una prima perturbazione tra l'uno e il 2 dicembre che porterà pioggia al centro nord. Ma l'aspetto interessante di questa perturbazione è che è seguita da aria fredda di origine polare, la quale scivolerà fino alla Valpadana lasciando qui un cuscinetto freddo. Cuscinetto freddo che verrà tirato in ballo dalla successiva perturbazione, quella tra il 4 e il 6 dicembre, le cui correnti tiepidi di Libeccio scorrendo al di sopra di questo cuscinetto di aria fredda daranno luogo a nevicate abbondante sulle Alpi, ma nevicate possibili in pianura anche su Piemonte, Lombardia, Parmense e Piacentino. Ovviamente tra il 4 e il 6 ci saranno anche piogge su tutto il centro sud. Poi tra il 7 e il 10 un'altra perturbazione atlantica con venti miti atlantici porterà piogge su tutta l'Italia, nevicate oltre 1.000-1.500 metri sulle Alpi. E poi infine tra l'11 e il 15 di dicembre sembra arrivare un'alta pressione, quindi tempo stabile e bello fino a metà di dicembre, il freddo diciamo attenuato se non congelate notturne. Per quanto riguarda le piogge nei prossimi 10 giorni, qui fa vedere attenzione, là dove è giallo significa più di 100 mm, dove è magenta significa 150 mm, quindi quelle aree in giallo, il Triveneto, il Levante Ligure e l'Alta Toscana, la Campania, saranno da seguire con particolare attenzione, onde speriamo che non avvengano eventi estremi.